La testa in due sezioni in ugual maniera in maniera molto semplice sollevando i capelli verso l'alto e puntandoli con un becco d'oca o un pinzone come vi è più comodo L'air press è costruito con un filo di nylon che viene sistemato dal vostro parrucchiere nella misura perfetta più indicata alla vostra testa va applicato calzato sulla testa deve appoggiare al di sopra delle orecchie con un pettino a coda vado a far uscire i capelli che si sono incastati sotto il filo per essere più tranquilli applichiamo una molletta alla fine della nostra testa in modo che il nostro air dress sia completamente ancorato e ben fisso a presto a presto a presto a presto a presto a presto